Un sospiro di sollievo per i 950 operai della Bridgestone. La fabbrica resta a Bari e i lavoratori potranno fare affidamento sulla cassa integrazione a rotazione per due anni e sul piano triennale di incentivazione all'esodo volontario. E la sintesi dell'accordo siglato tra i vertici della multinazionale, i sindacati, la regione e i ministri dello sviluppo economico e del lavoro. Un'avvertenza che per il momento si conclude positivamente dopo che nel marzo scorso l'azienda aveva dichiarato l'intenzione di disfarsi dell'impianto barese e di lasciare definitivamente la Puglia nel 2014. Un risultato che soddisfa tutti raggiunto grazie alla rimodulazione del piano industriale che prevede la riorganizzazione della fabbrica e la riconversione industriale incentrata sulla produzione di pneumatici general use. Soluzione che dovrebbe garantire il mantenimento dei livelli occupazionali. Il nuovo piano industriale sarà sostenuto da un cofinanziamento statale con termini a cinque anni che consentirà all'azienda giapponese di sostenere investimenti per 31 milioni di euro. A regime la produzione dello stabilimento Bridgestone di Bari sarà di circa 3,5 milioni di pneumatici e i sacrifici dei lavoratori attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali saranno ricompensati con il rafforzamento della produzione e dunque il salvataggio dei posti di lavoro. La soluzione individuata col nuovo piano industriale ha scongiurato la definitiva cessazione delle attività produttive e la chiusura dello stabilimento. L'esodo volontario riguarderà al massimo 377 unità lavorative nel prossimo triennio. Si auspica che il potenziamento dello stabilimento di Modugno e la ripresa della domanda possa in futuro determinare una sensibile riduzione degli esuberi.